D'Argento anche la prima giornata della sciabola, gli europei di Antalya con Luca Curatodi che è arrivato al secondo posto, il bilancio di Nicola Zanotti CT della sciabola azzurra. Luca ha fatto una gara esemplare, veramente, ha tirato benissimo da sindagironi, si vedeva che c'era lucido, belle stoccate, assalti netti fino alla finale, fino al primo e secondo posto. Anche ha lottato l'assalto dei quarti per niente facile e poi con APT ha fatto una grande scherma. Così fino al vantaggio, insomma a metà assalto con Bazzazzo, ma Bazzazzo è un grande atleta, quindi veramente un superargento. Poi c'erano tre esordienti di fatto, di età diverse, Giovanni Repetti un po' più grande, due giovanissimi invece, un under 20, un 21enne, Gallo e Pietro Torre. Come si sono comportati Nicola Zanotti? Devo essere sincero, siamo riusciti, hanno fatto quello che speravo facessero perché comunque Repetti, che meritatamente anche lui era in ballo per essere anche titolare, poi l'ha diventato, però ha fatto una bella gara, un ottimo 16, anche lui non ha saputo stringere per caso nel momento importante, perché era lì anche una finale 8 che avrebbe meritato. I due ragazzini qua dovevano fare soprattutto esperienza, naturalmente con l'ambizione di far bene perché hanno le qualità, e però hanno peccato un minimo di, hanno trovato Pietro con Curatoli, ma anche Michele che era venuto da un leggero infortunio dopo l'Europander 23, non si era negato benissimo, non si è riuscito a esprimere al meglio. Però hanno fatto una, sinceramente hanno tenuto la pedana, hanno fatto vedere che ci sono, hanno fatto vedere che il gruppo c'è, perché questi sono il futuro e quindi possiamo sperare. Ecco. Grazie. Grazie.